Signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da una cosa che forse avrete già visto nella mia ultima diretta eccola qua, guardate che bella, la felpa della pattuglia acrobatica nazionale la felpa delle frecce tricolori, bellissima, indubbiamente, indubbiamente, guardate che bella, bellissima me l'ha passata un amico che ha una bancarella di abiti vintage e devo dire la verità mi sta d'incanto e mi fa particolarmente, mi fa particolarmente figo allora spesso, molto spesso, nei miei video e nelle mie dirette sono abituato a parlo, diciamo, di un personaggio molto importante nella storia del fascismo, molto importante nella storia del ventennio ovvero sia Giuseppe Bottai allora, Vittorio Mantovani era uno dei curatori di quest'opera, la seconda guerra mondiale di Enzo Biagi, una storia di uomini, una delle più importanti enciclopedie pubblicate qua in Italia sul secondo conflitto mondiale nel corso degli anni un'opera che a distanza di 40 anni dalla sua pubblicazione ha un impianto tuttora molto valido ha un impianto tuttora solido, ha un impianto tuttora attuale certe cose non si conoscevano all'epoca, verissimo altre cose comunque sia sono rimaste confermate e la valutazione che fa Mantovani del personaggio Giuseppe Bottai ritengo sia estremamente interessante, estremamente valida e racconti molto bene chi era l'uomo che secondo alcuni dei contumaci al processo di Verona contro gli uomini del Gran Consiglio che il 25 luglio 1943 defenestrarono, tra virgolette, Mussolini era Giuseppe Bottai, forse il più illustre di quegli imputati era l'enfant prodige del fascismo l'uomo migliore, la mente migliore ma anche la Cassandra del regime il fascista critico, il più fascista dei fascisti l'eretico prudente, il gerarca che sognava la libertà il cavaliere di un fascino impossibile e scomodando Winston Churchill un enigma avvolto in un mistero allora, queste definizioni sono solo alcune di quelle che storici, giornalisti, ricercatori hanno dato di Giuseppe Bottai e noterete bene che la contraddizione regna sovrana come può essere eretico il fascista più fascista di tutti come può essere, ripeto, il fascista critico al contempo essere quello più ortodosso e come può un fascista sognare la libertà Mantovani ci spiega che bisogna diffidare degli uomini per i quali tutte le definizioni sono buone questo significa quasi sempre che nella loro vita hanno predicato in un modo razzolato nell'altro ok? e uno di questi uomini che diciamo, non dico buono per tutte le stagioni perché quelli sono altri tipi di personaggio ma diciamo questo questo sortentenna ecco, diciamo così e fu uno di questi sortentenna fu senza dubbio Giuseppe Bottai che era fascista della prima ora squadrista e manganellatore sin dai primi anni del fascismo poi fascista revisionista e timidissimo dissidente perché diciamoci la verità molte delle obiezioni fatte da Bottai nel confronto del regime diciamo che se le tenne per sé allora gli occhi magnetici di Mussolini che secondo Bottai erano la cosa che lo colpì di più trafissero i suoi per la prima volta nel cosiddetto covo di via Paolo da Canobbio a Milano l'incontro ha qualche cosa di fatale la mia vita fu decisa con quella di tutta una generazione ma si chiede Mantovani se è possibile che il capo del fascismo ci venga presentato come un ipnotizzatore da baraccone vabbè era diciamo la parte del personaggio Mussolignano che forse gli riusciva meglio ecco e il giovane arrivato da Roma per conoscere Mussolini non era uno sprovveduto aveva studiato e fatto la guerra era un intellettuale che si era nutrito di buone letture aveva fatto il liceo al liceo Tasso era laureato in legge aveva amicizie tra i futuristi e allora era una cosa di gran moda e in cuore aveva la speranza di iscrivere il proprio nome nel firmamento della letteratura a certe volgari seduzioni avrebbe dovuto saper resistere e invece no e invece no Bottai ha 23 anni è nato a Roma il 13 novembre del 1895 suo padre è un vinaio di Monsummano la madre era figlia di un maestro d'ascia spezzino e aveva Bottai una gran voglia di farsi largo nella vita a 23 anni è già un poeta però più che ripuscolare che futurista potrebbe fare l'avvocato il professore il filosofo e perché non il giornalista o l'uomo politico e anche diventare l'ideologo della cosiddetta rivoluzione fascista rivoluzione che sappiamo bene essere tale praticamente solo di nome e questa può essere diciamo una scorciatoia cioè entrare nel fascismo può essere una scorciatoia per soddisfare le proprie ambizioni personali e nell'estate del 1919 l'ex ufficiale degli Arditi si iscrive al fascio di Roma il poeta che sognava un paese all'antico e guarda caso senza la lega operaia si trasforma in un somministratore di olio di ricino fa una carriera politica fulminea è redattore del popolo d'Italia collaboratore e poi direttore di Roma Futurista e anche di altri giornali che hanno un frasario piuttosto pittoresco in cui si ragiona poco e si inveisce molto tipo me quando quando certa gente apre bocca va bene va bene va bene va bene nel 1921 Bottai è già eletto deputato peccato che non abbia l'età minima per sedere alla camera e se ne riparlerà nelle elezioni del 1924 Bottai fascista antemarcia intanto è estremista e repubblicano dopo il 28 ottobre con un tempismo che va sottolineato abbandona le irrequiete avanguardie per l'ortodossia del fascismo musoliniano diventa come ha scritto Francesco Malgeri e questa è forse la definizione più appropriata che si può dare di Bottai un intellettuale al servizio del fascismo nel giugno 1923 fonda la rivista Critica Fascista che sarà per vent'anni il portavoce delle sue battaglie politiche più significative sul revisionismo fascista sulle corporazioni sulla cultura sui giovani Piero Gobetti lo attacca in maniera feroce dicendo non è lecito tra persone intelligenti credere sul serio che quelle di Bottai e di Rocca sono idee sono detriti e spazzature di vecchie ideologie trasformismo senza decoro personale e senza intransigenza poi vabbè lo sapete abbastanza bene anche voi che cosa accade al povero Piero Gobetti vabbè 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 rieletto deputato nel 1924 direttore di epoca nel 1925 il 6 novembre 1926 Bottai viene nominato sottosegretario del nuovo ministero delle corporazioni di cui tre anni dopo diventerà ministro titolare e verrà defenestrato nel 1932 in uno dei tanti cosiddetti cambi della guardia che Mussolini era solito fare per impedire la formazione di centri di potere alternativi al suo Bottai fu volontario nella guerra di Etiopia e fu il primo governatore civile di Addis Abeba quindi se vogliamo anche lui ne ha combinate parecchie torna in Italia e alla fine del 1936 viene nominato ministro dell'educazione nazionale dopo aver dato il suo nome alla carta del lavoro prepara ora una carta della scuola destinata a riformare la legislazione scolastica italiana fu favorevole alla politica delle leggi razziali e nel 1938 è tra i primi a introdurre la discriminazione contro professori e studenti ebrei e nel 1940 fonda un'altra rivista ovvero Primato alla quale collaboreranno studiosi e intellettuali antifascisti diciamo che Primato quella rivista sarà un po' il suo alibi ok? piano piano però la sua grande fiducia in Mussolini si è dissolta quegli occhi magnetici che lo avevano conquistato quando era giovane non lo incantano più dice non è un volitivo è un velleitario sono le amarissime parole che Bottai che al capo aveva dedicato praticamente tutta la sua vita dice dice di Mussolini durante durante la guerra di fatti la definizione che Mussolini ormai aveva solo ambizioni da piccolo capobanda al contempo meschine e sconfinate che vi devo dire però intanto rimaneva lì rimaneva lì rimaneva chissà come mai va bene la notte tra il 24 e il 25 luglio 43 l'esitante Bottai si decide e con grandi Federzoni e gli altri congiurati vota apertamente contro il luce vota l'ordine del giorno grandi non è più questione di tradire o di non tradire spiegherà ma di avere il coraggio di confessare il tradimento di lui o lv il cavaliere 56 Mussolini compiuto giorno per giorno dalle prime decisioni a questo crollo morale non un'idea non un fatto un istituto una legge cui egli abbia tenuto fede tutto fu da lui guastato distorto corrotto sulla scia di un empirismo presuntuoso eppure accorto fondato sul disprezzo degli uomini e dei loro ideali come si volevano bene fra di loro i gerarchi come volevano bene Bottai esprime nel suo diario queste parole spiegando il perché si sia deciso a votare l'ordine del giorno grandi cioè praticamente lui credeva in un ideale credeva nel fascismo pensava un po' come Trotsky al fascismo un po' come Trotsky con il comunismo come rivoluzione permanente anche Bottai credeva pensava e sperava in un fascismo che fosse una continua rivoluzione di se stesso una continua crescita mentre invece sappiamo bene che il fascismo divenne una sorta di pachiderma stanco che collassava sotto il suo stesso peso e di questo Bottai accusava il principale responsabile ovvero sia Mussolini il duce del fascismo l'uomo dal quale dipendeva tutto l'uomo che secondo Bottai ne aveva tradito gli ideali ok allora ma ci si chiede ci chiede Mantovani e me lo chiedo anche io sinceramente ma Bottai dove era cosa ha fatto per cambiare le cose oltre ad abbandonarsi ai suoi sarcasmi e se ci pensate questo è vero perché oltre al sarcasmo privato cioè ci si chiede veramente ma cosa ha fatto Bottai per cercare di parlare col duce cosa ha fatto Bottai per cercare di cambiare la situazione che cosa ha fatto Bottai che si rendeva conto dello sfascio del declino del tra virgolette tradimento degli ideali da parte di Mussolini che Mussolini fu secondo Bottai ma anche secondo tanti altri il principale traditore del fascismo perché tradì tutti fedele soltanto a se stesso tra l'altro però Bottai era anche l'uomo che diceva che oramai parlare con Mussolini era praticamente impossibile perché Mussolini si era volutamente e volontariamente rinchiuso in un isolamento sempre più totale un isolamento che partì se vogliamo dalla morte di Vittorio Mussolini del fratello il suo confidente l'uomo che lo appoggiava l'uomo l'uomo di cui Benito Mussolini si fidava di più e sapete bene era il fratello Vittorio era era e che vi posso dire dopo la morte del fratello e Mussolini si lasciò andare in questa in questa come dire solitudine cercata e voluta e al momento della morte del figlio Bruno fu Bottai che parlando con grandi disse speriamo che questo ulteriore colpo del destino non lo spinga ad isolarsi ancora di più cosa che Mussolini fece perdendo praticamente in maniera completa ormai o quasi il contatto con la realtà e Bottai ripeto che cosa fece niente sarcasmi personali definire il duce un piccolo capobanda dalle ambizioni meschine e al contempo sconfinate parlare male di muti parlare male di questo parlare male di quello un po' la suocera del regime se vogliamo ecco ecco Bottai sapeva essere un'autentica vipera perché come dire il suo sarcasmo colpiva indistintamente tutti allora venne condannato a morte come già sapete venne condannato a morte in contumaccia dal tribunale di Verona Mussolini lascia clandestinamente l'Italia riesce a raggiungere l'Algeria e si arruola nella legione straniera a quasi 50 anni sotto falso nome combatte la quarta guerra della sua vita affrontando i tedeschi nelle foreste dell'Alsazia e guadagnandosi anche la promozione se non ricordo male a Sergente e anche un paio di medaglie se non ricordo male venne condannato all'ergastolo dall'alta corte di giustizia dopo la liberazione fu amnistiato alla fine del 1947 e ritorna in Italia nel 1948 si ritira completamente dalla vita politica e passa gli ultimi dieci anni della sua vita immerso nello studio di problemi politici e sindacali e muore nel 1959 chi lo incontra qualche anno prima della sua morte lo trova snello e nero di capelli un po' ingrigito sulle tempie vestito con un abito piuttosto modesto e vecchio e triste irrimediabilmente malinconico come coloro che contemplano il fallimento della propria esistenza perché Bottai tutto sommato può essere definito come un uomo che ha fatto tutto nella sua vita che è stato ripeto fascista duro e puro che è stato fascista ortodosso che è stato fascista critico che è stato un fascista che voleva la libertà che è stato un gerarca importantissimo un ingranaggio importantissimo del meccanismo del regime fascista fu un uomo che si accorse dello sfascio della deriva della decomposizione del regime fascista ma che cosa fece a parte esprimere privatamente il proprio sarcasmo oggettivamente fece poco o nulla se voi cercate qua su youtube troverete un bellissimo sceneggiato allora si chiamavano sceneggiati non fiction sceneggiati troverete un bellissimo sceneggiato della RAI intitolato la fronda inutile che parla dei rapporti tra Mussolini e i suoi gerarchi dei rapporti tra i vari gerarchi nel periodo in cui si temeva si paventava l'entrata in guerra nel periodo della non belligeranza e Bottai è uno dei protagonisti di questo è uno dei protagonisti di questo sceneggiato che dire un personaggio che è indubbiamente molto importante a livello storico un personaggio fondamentale nell'ambito e tra virgolette nell'economia nell'insieme del regime fascista un personaggio che con le sue contraddizioni con la sua indecisione un personaggio che con la sua intelligenza al servizio del fascismo al servizio del regime cercò di fare quello che riteneva il suo dovere ma alla fine si rese conto di avere dato la sua vita al nulla e si accorse del declino dell'autorità del capo si accorse che il capo non era più un comandante un leader non era più il duce ripeto era soltanto un capobanda che aveva ambizioni immense ma poco e niente per metterle in atto giuseppe bottai è un personaggio che ripeto è molto interessante da studiare molto interessante da cercare di comprendere ripeto contraddittorio velleitario sarcastico timido dissidente del fascismo in privato ripeto in privato ne diceva di tutti i colori in pubblico zitto muto obbedisco al capo e alla fine però dovete fare una scelta e fece la scelta che in coscienza cercava di salvare quello in cui aveva creduto ovvero sia il regime fascista però come sapete bene Vittorio Emanuele III non aspettava di meglio per arrestare Mussolini e Ciaone proprio in pratica come dire in pratica Bottai fu uno spettatore una voce critica un grillo parlante la Cassandra inascoltata il tra virgolette capitano ovvio o la suocera invelenita del regime un uomo che alla fine prese una decisione dicendo come gli altri non è che volesse l'annientamento l'annullamento del fascismo e non voleva che il duce venisse arrestato o cadesse voleva semplicemente con gli altri che le responsabilità della conduzione della guerra se le pigliasse la corona ma c'era Vittorio Emanuele di mezzo che cosa vi aspettavate i congiurati del 25 luglio furono un curioso mix tra intelligenza e ingenuità tra abilità nel complotto e altrettanta ingenuità nel non capirne le conseguenze che vi devo dire e Bottai ne è un esempio alla fine disse semplicemente io si arruolò nella legione straniera combatté con valore e con coraggio contro i tedeschi in Alsazia agli ordini delle Clerc con la legione straniera con la legione straniera francese ripeto si guadagnò la promozione cioè curioso a 30 anni lui era generale della milizia a 50 era sergente della legione straniera vabbè cose cose che possono succedere almeno diciamo Bottai si rimise in gioco cercando magari di riscattare i suoi precedenti errori che vi posso dire non credo ci sia altro da aggiungere insomma signori le parole di Mantovani tratte dal quinto volume della seconda guerra mondiale di Enzo Biagi ci tratteggiano un ritratto breve ma molto calzante e molto preciso sulle contraddizioni dell'uomo Bottai sulle contraddizioni del Bottai del fascista Bottai sulle contraddizioni del fascista e dell'uomo Bottai che dire adesso tocca a voi qua sotto come sempre commentate fatemi sapere come sempre che cosa ne pensate e come sempre vi ringrazio tantissimo per l'attenzione e arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao ciao